Ci troviamo in via di Torre Valdaliga Nord, anche qui la furia della tromba marina ha colpito, anzi si può dire che di fatto si è partita dal mare proprio per transitare in quest'area e affrontare un po' con la sua furia devastatrice quello che incontrava sul suo cammino. In particolare dapprima ha trovato un vuoto, quindi non ha abbattuto gli alberi della frasca che pure hanno resistito a quanto pare come frangivento e invece poi trovando campo libero si è precipitata sulla prima abitazione e vediamo che gli alberi forse in alcuni casi andrebbero potati prima del tempo, prima che si verifichi qualche cosa e che magari un vento forte possa abbatterli con conseguenze sulle persone. Praticamente la tromba ci è passata al tangente posteriormente alla casa e quindi ha divelto gli alberi, per lo più qui dove siamo noi adesso c'era un bellissimo albero di mimosa e si è divertita dietro la casa dove avevo una roulotte. La roulotte simpaticamente ha camminato lungo il muro della casa c'è la gomma che passa sotto le finestre, si è trascinata via i pluviali discendenti e poi le tegole di una stanza circa, sono volate via una cinquantina ma siamo stati abbastanza fortunati, la veranda ha portato via tende siamo rimasti senza corrente fino alle due e mezza di notte e l'Enel è arrivata, devo dire, ha lavorato sotto dal mattino fino a quell'ora siamo stati l'ultima casa perché qua si ferma praticamente la linea sono l'ultimo utente per il resto sì, pochissimi danni di cui però sì sarei anche capace di valutare adesso con un tecnico ma comunque come vadano le cose chi ha più bisogno ne prenda atto insomma se arriverà a qualcosa